Migliaia di persone hanno riempito Piazza Santa Croce a Firenze per partecipare ai funerali del Capitano della Fiorentina Davide Astori, morto a soli 31 anni per un arresto cardiaco lo scorso 4 marzo. La messa nella Basilica, alla quale erano ammessi solo familiari, autorità e delegazioni di altre squadre, ma non il pubblico, è stata celebrata dal Cardinale Giuseppe Bettori. Tra le personalità intervenute il patron della Fiorentina Diego Della Valle, il presidente dell'Associazione Calciatori Damiano Tommasi, il presidente dell'Associazione degli Allenatori Renzo Olivieri e il segretario del PD Matteo Renzi, che su Facebook ha scritto Santa Croce oggi ha accolto tutto il mondo del calcio per l'ultimo ciao a Davide Astori. Firenze ha abbracciato la famiglia del Capitano con l'affetto e il senso di appartenenza che questa città possiede in modo unico. Spesso litigiosa e polemica, Firenze è anche una città che sa regalare amore in modo straordinario, un pensiero alla piccola Vittoria e a Francesca, ai genitori e ai fratelli, ciao Capitano. Astori lascia infatti una bambina di due anni, Vittoria, e la moglie ed ex modella Francesca Fioretti.